Sono entrate nel vivo le attività ospitate dalla Casa della Legalità e dell'Ambiente di Teramo, Piano B, così rinominata, attività gestite dalle associazioni a cui è stato affidato appunto questo bene confiscato alla criminalità organizzata. Quali sono gli appuntamenti in calendario? Sì, intanto abbiamo iniziato le nostre attività nel vivo perché sono sei mesi di attività effettiva che stiamo svolgendo. Abbiamo messo in cantiere tutta una serie di incontri, adesso il prossimo incontro sarà legato lunedì ad un incontro con gli insegnanti, un'attività di formazione per insegnanti e per educatori ambientali. Sarà legata al mondo del mare e in particolare ai danni che la plastica in mare può procurare, ma nello stesso tempo sarà uno spunto perché gli insegnanti possono trovare, come dire, e anche gli educatori, iniziative pratiche da poter svolgere per l'attività per i loro ragazzi. Rientra perfettamente nella logica dell'utilizzo dell'appartamento che abbiamo ottenuto dal Comune di Teramo utilizzando appunto la normativa sulla partecipazione. Abbiamo svolto questo patto con il Comune di fare una serie di iniziative, le stiamo svolgendo. Vanno da incontri con la fotografia, dove abbiamo parlato di nostri territori ma anche dei territori artici, a incontri legati al cineturismo, anche quello per valorizzare in una maniera diversa i nostri territori. Tutti molto partecipati, devo dire. Quali sono le associazioni che animano, per così dire, le attività di piano B? Ma innanzitutto le quattro associazioni che hanno costruito il patto con il Comune proprio, e sono il WWF, l'ARCI, Mountain Wilderness e le GADIT. E dopodiché sappiamo che però noi quello spazio da sempre abbiamo detto che sarebbe stato aperto a tutto il mondo associativo. Quindi l'ambizione è quello di farne un po' una sorta di punto di riferimento per la partecipazione sociale e civile nella città di Teramo? È proprio questo l'elemento, farne proprio un punto di riferimento per la partecipazione. Siamo convinti che la legalità passa anche attraverso una forte partecipazione dei cittadini.